Tutte le possibilità che investano i tre lati dell'essere umano, che è quello spirituale, quello materiale, quello mentale, per darci a tutti la possibilità di crescere e di continuare a migliorarci. E crediamo che questo sia l'esempio che noi vogliamo dare ai nostri figli, perché se i nostri figli di non loro sottopossi a un continuo processo di apprendimento e miglioramento, lo faranno anche loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.